la fumata c'è questa sì che è una fumata tira parteo fine salutiamo Alexander Carina un applauso è partita Gian Pietro Magno New Holland 170 cavalli siamo alla sesta categoria un nuovo cambio due pesi paretto lampeggiante spinge spinge primo traguardo 40 e 40 metri superati sono 170 cavalli per tirare 120 quintali 60 seconda traguardo superato dai scusate oh ma l'ho sbagliata e questo è un mio hollad un mio hollad 65 e 30 70 80 60 100 100 100 ha suonato tempo 11 86 11 18 60 fin'ante che ci assiste e ci distepe in questa giornata è partita è partita Annibale Colombo John D.R anche questo 170 cavalli vai e anche questo 120 quintali V e Zavola Annibale Colombo numero 25 20 siamo a 39 41 41 traguardo 80 mentre dai che tu la fai Annibale e abbiamo anche la mascotte che gira per reculire il campo grazie